Buon pomeriggio e bentrovati a Caserta Sera Stadio. Lo spazio è riservato al dopo partita. Nona giornata di campionato, Stadio Ferrante di Piedimonte Matese. Da qui abbiamo assistito a Treppini Olimpia Riccia, terminata con un pareggio clamoroso. Ma prima di scendere nel dettaglio della partita, diamo spazio alla sigla per poi ritrovarci subito dopo. Bentornati in nostra compagnia. È arrivato il momento di ascoltare i protagonisti della giornata. Diamo quindi la linea alla nostra inviata, Valentina Monte, che è in compagnia di uno dei primi protagonisti. Grazie Maria, sono con il mister del Treppini. Mister, oggi è una partita abbastanza sotto tono. Portava in avanti il risultato, poi cosa è successo alla fine degli ultimi minuti? Continuiamo a fare questi errori che purtroppo ci costano care e non riusciamo a correggere quello che il po' che riusciamo a fare in mezzo a campo. Succede quello che succede. Dispiace perché purtroppo perdiamo ancora punti. La classifica, la zona alta, si allontana sempre di più e spero che domenica riusciamo a mettere a punto delle nostre situazioni. che riusciamo, cerchiamo di chiudere bene la partita e andare avanti. Un punto, infatti il Treppini porta a casa un punto. Poco, ma diciamo è abbastanza per continuare. Sì, sicuramente. Muovere la classifica è importante, però muovere la classifica comunque fa male. Erano due punti buttati, sono già sei punti che abbiamo buttato su questo campo. Poi dispiace tantissimo perché diciamo che durante la settimana lavoriamo in un certo modo, arriviamo alla partita e continuiamo a fare degli errori che io dico sempre, la squadra che sbaglia di meno. Settimana prossima il derby così atteso dai tifosi matesini, il derby con la Leaf? Ma il derby è sempre derby. È normale che senti da ambe le parti. Io spero che sia una giornata di sport come tutte le altre e cercheremo in tutti i modi di portare a casa un risultato positivo sperando una vittoria. Diamo ora spazio al secondo protagonista in compagnia della nostra inviata, a te la linea Valentina. Adesso sono in compagnia del mister dell'Olimpia Riccia. Mister, come dicevo anche con il mister Geloso, un primo tempo in cui abbastanza sottotono, non ci sono state molte azioni da entrambe le squadre. Cosa pensa riguardo? Sicuramente. Il primo tempo è stata una partita dove forse tutte e due le squadre la volevano vincere e nello stesso tempo non la volevano perdere. Quindi si è creata questa situazione che secondo me poi ha smorzato gli animi dal secondo tempo quando il treppino è andato in vantaggio. Dopo è stata una partita a viso aperto dove ci sono state veramente delle occasioni ghiotte da una parte e dall'altra. Secondo me alla fine il pareggio penso che è un risultato giusto. Prossima settimana in casa avrai il Frentania? Sì, prossima settimana abbiamo il Frentania in casa. Io sono arrivato questa settimana quindi sto cercando di lavorare in questo momento qua più un discorso di testa che un discorso atletico. Quindi far passare a questi ragazzi quella paura che ci sta addosso e cercare in qualche modo di fare comunque risultato perché poi senza nasconderci il risultato è quello che ti dà più tranquillità. Bene, la nostra trasmissione termina qui. Ringraziamo tutti i nostri collaboratori ma soprattutto tutti voi per averci seguito. Vi aspettiamo alla prossima. Sigla!